Quella con la Reggiana sarà una vera e propria prova di maturità per il Teramo che dopo la vittoria sul San Marino Guardal prosegue del campionato con rinnovate ambizioni. La classifica dice infatti che la zona playoff è un passo per cui è giusto restare con i piedi per terra ma anche sognare. Nonostante le tante assenze nel Titano i Biancorossi hanno dato prova di maturità e concretezza piazzando in apertura di gara all'1-2 prima di subire il prevedibile forcing dei padroni di casa. Ora c'è da tornare a flertare con i tre punti anche al Bonolis dove i tifosi si aspettano il definitivo salto di qualità e la sfida con gli emiliani rappresenta l'occasione propizia per superare una diretta concorrente classifica alla mano e continuare a scalare posizioni. Importante crederci in questo senso sarà fondamentale anche l'apporto dei tifosi anche quelli della tribuna che in occasione della gara interna con la propiacenza avevano fischiato la squadra. La squadra infatti è già al lavoro per la gara con gli Amaranto. Oltre ai luogotenenti oggi non ci sarà a disposizione di mister Vivarini il portiere Federico Serraiocco impegnato con la due giorni della nazionale under 20 a Cremona. Sul versante rosso-blu l'aquila di Zavetti rifunziona. Ora anche il Tommaso Fattori non è più un tabù anche se la squadra aquilana ha dimostrato di trovarsi più a suo agio nelle gare esterne. Il successo sulla carrarese ha messo in mostra ancora una volta la tenacia di Pomante e compagni che hanno saputo aspettare il momento propizio per piazzare il colpo del K.O. Ora però si punta a salire ancora e ad allungare la serie positiva confidando anche nelle reti dei centrocampisti e dei difensori. E la gara del prossimo turno a Rimiri con la Santa Arcangiolese potrebbe rappresentare l'occasione giusta per bissare il successo con la carrarese. In Romagna tornerà a disposizione il difensore Maccarrone che ha scontato la squalifica. Mister Zavettiere ha invitato la squadra a non sottovalutare i romagnoli che navigano nelle zone basse della classifica. Una gara trappola, l'Aquila è avvisata.